e benvenuti benvenuti monarchici assoluti nuovo video del monarca l'interrogatorio di inzaghi ieri il nostro caro mister simone inzaghi il demoni di piacenza l'allenatore italiano più forte d'italia senza dubbio è stato interrogato dai pm per ciò che concerne l'inchiesta delle curve degli ultra ultra della curva dell'inter e del milan insomma ieri sera abbiamo fatto la live su questo se non l'avete vista andate a recuperarvela abbiamo approfondito il tutto qui insomma sapete qual è la situazione per chi fosse su marte e ancora non è al corrente del fattaccio inter e milan hanno degli esponenti della curva in carcere perché sono accusati di moltissimi reati fra cui associazione a delirio ha più una mente allora prima di parlare approfondire l'interrogatorio del nostro mister lo sapete a memoria iscrivetevi al canale cliccate prima su iscriviti subito dopo sulla campanella selezionate tutte in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video di quando faccio le live live che faremo anche stasera seguiremo la nazionale italia belgio nation's league non tanto perché ci interessi della competizione ma più che altro perché vogliamo vedere questa nuova italia come gioca come rende anche con avversario di buon livello come peggio quindi mi raccomando iscrivetevi e fate iscrivere vostri amici a questo canale mi raccomando per me è importante fatelo per gli dei dell'algoritmo di youtube allora apriamo sport media set quindi inchiesta curve in zaghi dal capo della curva richieste ma non minacce andiamo ad approfondire simone zaghi è stato sentito come persona informata sui fatti quindi ragazzi non è indagato è una persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta della procura di milano che ha zerato i vertici delle tifoserie inter e milan secondo quanto riporta l'ansa il tecnico nell'azzurro avrebbe parlato di richieste arrivate dal capo della curva di interlocuzioni precisando di non aver subito minacce né di essersi sentito intimidito in riferimento a un'intercettazione agli atti con marco ferdico al vertice degli ultra interisti in cui quest'ultimo lo sollecitava intervenire nei confronti del presidente giuseppe marotta per avere più biglietti per la finale di champions di istanbul duemilaventitré nel dettaglio dell'audizione avvenuta in un ufficio esterno della costura di milano simone zaghi avrebbe notte spiegato agli inquirenti che questo dialogo orientava nei rapporti tipici tra curva e squadra e che non voleva perdere supporter è stata una testimonianza pulita ed esauriente e a risposta a tutte le domande ha precisato una fonte investigativa riportata all'agenzia di cronos in riferimento all'audizione di inzaghi sentito dagli investigatori della squadra mobile milanese nell'inchiesta del pm paolo storari e sara ombra inzaghi ha ammesso di aver parlato a telefono con ferdico e di aver appunto rapporti di interlocuzione con i capi della curva che parlavano con tutti con l'allenatore con la dirigenza e ci orientavano le note dinamiche del rapporto tra supporto elettivo organizzato e squadra ha precisato però che in quei dialoghi lui non ha manifestato al punti moral con la paura perché non si è sentito minacciato dal capo oltrà e dalle sue richieste allora ragazzi sicuramente sicuramente inzaghi ha fatto questa deposizione che dirvi non è stato minacciato molto probabilmente no cioè sicuramente non si può parlare di minaccia quando uno non so non dice appunto non minaccia ti faccio questo ti faccio l'altro se non fai quello se non fai l'altro questo sicuramente no non c'è inzaghi riporta che questo marco ferdico eh gli abbia appunto chiesto di intercedere con marotta perché eh comanda marotta per capirci per la questione dei biglietti per la questione dei biglietti la finale di champions eh ci servono abbiamo solo mille biglietti ce ne servono mille due alla fine addirittura ne sono arrivati mille cinque a sentir dire l'inchiesta i giudici PM ok allora cosa cosa va analizzato qui per dire la verità di cui noi non abbiamo paura perché la verità non deve mai far paura ragazzi il discorso è questo se io tifoso normale fra virgolette che non sono nessuno che non faccio parte di nessuna curva non sono capo di niente provo a chiamare inzaghi in realtà non ho manco il numero di inzaghi ma diciamo che riesco a trovare il numero di inzaghi non mi da retta perché io non rappresento nessuno invece parliamo di uno che rappresenta la curva quindi rappresenta il tifo organizzato ora che uno che rappresenti il tifo organizzato chiami ehm l'allenatore o qualche dirigente della squadra per farsi dare più biglietti può essere anche lescito ma diventa lescito se con i biglietti poi non li rivende e ci fa la cresta quindi io un biglietto che pago x non so uno la società me lo fa pagare uno poi lo rivendo a cinque agli altri tifosi ci sto facendo la cresta sto facendo bagarinaggio è reato in secondis vedete ragazzi se uno viene chiamato da una persona normale che non ha precedenti penali che non ha amicizie di persone che hanno condanne che hanno reati o di cui si sospetta siano dei criminali è un conto ma se una richiesta viene fatta da qualcuno che ha la nomina di criminale o ha peggio o ha già precedenti penali condanne o ha amici che hanno precedenti penali condanne o comunque ha la nomea di avere amici nell'ambito della criminalità e lì ragazzi anche cioè non c'è bisogno di dire se non mi fai arrivare questi biglietti ti succede questo nel mondo reale quello che la gente fa finta di non vedere è sottinteso o comunque chi riceve la richiesta sta con le antenne dritte così funziona il calcio scusate il mondo il calcio non fa differenza quindi io sono per il tifo pulito per amare una squadra senza doverci guadagnare nulla quello è il vero tifo e andare allo stadio per seguire la partita davvero pensate che io non amo andare allo stadio perché io devo seguire tutto le azioni la cronaca il calciatore che viene sostituito quando a quale minuto il tiro devo godermi tutto a livello tattico e allo stadio mi viene più difficile farlo pensate che c'è gente invece che va allo stadio ma tutto fa meno che seguire la partita e i motivi sono altri io mi auguro che chi sia innocente sicuramente risulti tale ma chi sia colpevole venga condannato perché è ora di dare una ripulita alla società in generale e ergo anche al mondo del calcio dunque in zaghi ovviamente ha fatto bene se non si è sentito minacciato a a non dire mi hanno minacciato però ragazzi mettetevi anche nei suoi panni qualora lui abbia avuto comunque un sentore di minaccia secondo quello va a dire magistrati non si mette contro fra virgoletto una persona normale perché le persone normali non c'entra essere ricchi o no come in zaghi magari prende un sacco di milioni di euro per fare una data di calcio ma non ha potere ok una persona normale che non ha potere non si mette con una che può per potere per quanto il potere possa essere nefasto perché chi fa l'eroe in questo paese ma in generale il mondo fa una brutta fine purtroppo perché questa è la vita voglio entrare ancora più dentro quello che ha detto la chiamata la chiamata è questa da intercettazioni te la faccio breve mister ci hanno dato mille biglietti noi ci siamo fatti due conti ne abbiamo bisogno 200 in più per essere tranquilli ma non per fare bagarinaggio mister arriviamo al 1200 biglietti questa è la mia richiesta così avrebbe ottenuto la promessa di in zaghi di intercedere con i vertici societari parlo con ferri con zanetti con marotta le parole del ranatore parlo con quelli poi ti faccio sapere qualcosa gli dico che ho parlato con te e che tanto avevi già parlato con ferri e zanetti marco io io mi attivo e ti dico cosa dicono chiaramente io e federico precisa è il direttore marotta bisogna parlare con lui perché l'ultima parola tutto qua e questo ragazzi è proprio il dialogo a voi larga sentenza ovviamente vi aspetto nei commenti quindi scrivetemi come la pensate su tutta questa vicenda se vi è piaciuto quello che ho detto mettete un bel like 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 al video pollicione e soprattutto iscrivetevi al canale cliccate prima su iscriviti subito dopo sulla campanella selezionate tutte in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video di quando faccio i live live che faremo stasera seguiremo Italia Belgio National League mi raccomando vi aspetto alle 20 e 30 e niente ragazzi vi aspetto nei commenti fatemi sapere la vostra detto questo il nostro solito salute latino vide te mox forse inter sempre